bentornati a new york bentornati nel canale di chiari lady boss per contenuti su new york city stati uniti d'america donne imprenditrici video motivazionali e viaggi iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale dato che ieri vi avevo promesso che avrei festeggiato con voi i miei anni a new york l'attività il brand con un tramonto sul rutto privato a tra so e cioè becca e io mantengo sempre le mie promesse ecco a voi il tramonto indifferita purtroppo dei problemi tecnici non mi hanno permesso di andare live ma vi lascio comunque un po di dietro le quinte e ci organizzeremo presto per un altro festeggiamento insieme ragazzi purtroppo oggi è andata così abbiamo avuto problemi tecnici wifi hotspot eravamo pronti per voi avevamo un link di zoom per connetterci tutti insieme e brindare brindare a new york brindare alla vita brindare alla mia agenzia brindare al mio brand brindare con voi alle mie spalle la freedom tower in attesa di libertà la libertà che possa essere per tutti uguale il prima possibile intanto cheers grazie per esserci stati sono stati i problemi grazie per essere stati con me in tutta questa avventura che continuerà venite a new york auguri chiara buon anniversario auguri a voi cin cin aspetta leonardo cosa bevi il succo di frutto ok pierangela ubriaca lercia pierangela è storta gli altri non si mostrano gli altri sono più più timidi buona serata e scusate per tutto questo casino vai c'era pure il sole adesso ragazzi allora visto vieni uomo nero visto che ci è andata male la prima diretta programmata e non faceva la seconda diretta e non funzionava il wifi e non funzionava la hotspot quindi godetevi indifferita questo tramonto guardate che spettacolo ci sarà un'altra occasione guarda che bello dai se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale non dimenticatevi che ho iniziato a fare tour live virtuali quindi contattatemi per avere maggiore info quindi vi è piaciuto ciao ciao